Un peggio? No, non c'è. Conflitti oltre fitte di dolore, più aspri spasimi, dei primi spasimi istruiti, strazieranno. Confortatore dov'è? Dov'è il conforto? Madre nostra, Maria, dov'è il soccorso? Le mie grida a lungo gregge si innalzano, si accalcano in un capitale supremo sconforto, dolore del mondo. Su un'incudine antica rimbalzano e cantano, poi si placano, smettono. La furia ha urlato, basta indugiare! Fammi essere crudele, sarò per forza breve. Oh, la mente, la mente a montagne, di rupi a precipizio, spaventosi, scoscesi, insondati dall'uomo! Sono niente, solo per chi non vi fu mai sospeso. Ne a lungo la nostra misera resistenza resiste a quella fossa o abisso. Qui, striscia, sciagurato, sotto un conforto, apprestato nel turbine, mette fine a ogni vita, morte, e muore ogni giorno col sonno.